Nino Castiglia, candidato sindaco per il comune di Massafra. Castiglia, ci sono potentati economici, grosse forze economiche che in un certo qual modo potrebbero influire sul voto? In tal caso, cosa si sente di dire all'elettorato? Ma vedi, Massafra ha un tessuto economico e imprenditoriale notevolissimo. Ci sono tante imprese, forse la città della provincia di Taranto è più importante dal punto di vista imprenditoriale. Oggi la stragrande maggioranza delle imprese ascolta, guarda, vede quello che accade e non si interessa molto alla politica. Spera, naturalmente, spera che chi governerà la Massafra nei prossimi anni possa essere un punto di riferimento per loro e per l'intero territorio. Naturalmente la domanda che tu mi fai è chiara. C'è qualche potere forte che incide, forse, diciamo, più o meno scorrettamente. Ecco, passiamo questa, mi passi questa espressione forte. Capisco, purtroppo devo ammettere che le imprese dovrebbero stare ai margini della cosa, la politica dovrebbe appartenere alla politica e le imprese alle imprese. Le intromissioni scomode ci sono sempre, ci sono anche questa volta, purtroppo. Anche perché mi consenta, certi tipi di interventi, di intromissioni, di ingerenze, poi presuppongono un doubt des. Io ti sto appoggiando da imprenditore, da potere forte, perché poi tu, una volta eletto, mi dia. Ecco, questo scambio che in ogni caso è da evitare. Voglio essere molto franco con te. La speranza era quella di non vedere nessuno che si intrometta nelle questioni politiche. Sì, come sempre c'è qualcosa che non va. E anche in questa campagna elettorale si avverte la presenza di alcuni poteri forti, dietro alcune specifiche coalizioni. E la cosa mi dispiace, perché non dovrebbe essere così. Questa dovrebbe essere una carmesse politica che appartenesse a coloro che vogliono il bene della città e che vogliono dimostrare di volerla governare in un certo modo. Mi rendo conto che è così. Non è da ieri, ma sta fra necessità di serenità, di rispetto, di coesione. Purtroppo le ingerenze ci sono, sono anche molto forti, molto scomode. Questa settimana mi auguro che fili liscio tutto e che non diventi una settimana violenta che si concluda questa campagna elettorale nel migliore dei modi. Purtroppo sì, molti imprenditori con rispetto si allontanano in questo momento giudicando da lontano l'operato di coloro che presentano i loro programmi. Alcuni vivono... Fanno un po' il Don Rodrigo della situazione. Sì, probabilmente è questo. La cosa è molto dolorosa, purtroppo molto dolorosa. Sì, probabilmente è un po' il Don Rodrigo della situazione.